amici amici bianconeri bentrovati tre gran minuti post juventus benevento di quelli da veramente senza parole prima di cominciare però come sempre mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube tenete attiva la campanella delle notifiche per restare aggiornati su diverse importanti novità in arrivo qui su questo canale altre grandi interviste davvero interessanti e in fondo la puntata come sempre l'invito è quello a di a voi di mettere il like al video vi invito altresì a scaricare l'applicazione one football di cui trovate qui sotto in descrizione il link per scaricarla un'applicazione gratuita leggera che vi terrà informati su tante nozioni inerenti al mondo del calcio e dove avrete la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore per rimanere aggiornate su tutte le informazioni che la riguarderanno la trovate sia nel play store per chi ha dispositivi android sia nel apple store per chi ha dispositivi ios bene commentiamo velocemente questa partita juventus benevento che obiettivamente dal titolo indifendibili mi sento di dire da film horror una partita nella juventus nella quale la juventus che avrebbe avuto e dovuto far propria per continuare l'inseguimento alla vetta della classifica per certificare in maniera definitiva l'acquisizione quanto prima l'acquisizione in un posto champions ma per detta anche di pirlo che ieri in conferenza voleva mettere pressione all'inter che questa se che ieri sera non ha giocato e che quindi avrebbe potuto ritrovarsi la juve a meno 7 con ancora una partita da recuperare con ancora la sfida di dell'allianz sempre contro l'inter da giocare e beh invece ci troviamo di fronte a commentare qui a commentare una prestazione della juventus raccapricciante è vero che a caldo si corre il rischio spesso di proferire parole eccessive rispetto a quello che poi andando a analizzare a freddo e con calma quello che è stato forse non non si direbbe però se si considera che giocavamo contro il benevento una squadra che non diceva da 11 giornate e sei la juventus giochi in casa seppur senza pubblico comunque sei la squadra che viene da nove scudetti consecutivi la detentrice del titolo una squadra che ha un blasone e che solo per il fatto del blasone che si porta dietro dovrebbe scendere in campo perlomeno intimorendo gli avversari solo per il fatto che sia la juventus invece quello che è sconcertante e che davvero fa male di questa juventus è proprio che in campo quando scende sembra più lei aver paura degli avversari che non gli avversari del blasone dei bianconeri ora dispiace perché sono un fermo uno strenuo difensore del fatto che quello che ha compiuto la juve in questa decada è un qualcosa di irripetibile di straordinario e che non ci deve comunque far dimenticare ciò che è stato viviamo nel presente e ricordiamo sempre quelle che sono le ferite più 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 fresche e quella di questa sera è una ferita che probabilmente ci porteremo dietro per un po di tempo e quindi siamo a commentare questa di cercando e rischiando di dimenticarci tutto quello che di buono fu fatto che a seguito di una stagione così abbastanza nefasta come quella che stiamo vivendo rischiamo così di dimenticare io non voglio dimenticare quello che è stato perché ripeto sono uno strenuo difensore di quello che questa decade ha portato ai tifosi bianconeri che ci ha fatto vivere un qualcosa di irripetibile è però vero che analizzando quello che si vede ci sono momenti in cui ci si butta anche il cuore oltre l'ostacolo si difende a volte anche l'indifendibile ma questa sera non mi sento nella condizione di difendere una prestazione davvero indecorosa e indegna di una squadra che è scesa in campo che ha giocato in orizzontale per tutto il primo tempo rendendosi scarsissimamente pericolosa e seppur con un possesso di palla doppio rispetto a quello del benevento non è mai stata particolarmente pericolosa nella ripresa qualcosa meglio nel senso che la juventus pur non avendo un'idea di gioco pur non avendo nulla da mostrare di positivo a chi ha guardato questa partita ha sicuramente creato diverse occasioni da gol montipò portiere del benevento ha sicuramente effettuato qualche parata interessante cristiano ronaldo ci ha provato un pochino in tutti i modi ma quello che rimane negli occhi è una squadra che comunque non ha la bava alla bocca una squadra che non ha più fame una squadra che senza palla non fa movimento non c'è verticalizzazione come si chiederebbe ad arthur giocatore che fa della qualità tecnica la sua dote migliore che questa sera si è macchiato di un di un errore clamorosissimo stile bentancur ad oporto offrendo agaic il pallone per il gol del 1-0 che si è poi rivelato il gol della vittoria del benevento questa sera malissimo ma davvero una cosa che è quasi difficile descrivere tanto è stata negativa la prestazione di bernandeschi malissimo rabbio malissimo artur malissimo morata che è assolutissimamente fuori condizione fa fatica veramente a reggersi in piedi malissimo un po tutti è difficile trovare questa sera un giocatore da salvare sicuramente c'è qualche d'uno un po meno peggio degli altri ma nel complesso una prestazione veramente da film horror che nemmeno il calcio di rigore secondo me nettissimo negato a chiesa e quello che fa arrabbiare è che anche in questa circostanza pare non ci sia stata la volontà di andarlo a rivedere al var o comunque non c'è chiarezza sull'utilizzo di questo strumento che a questo punto è pare è pare chiaro è evidente non serve a diminuire gli errori arbitrali perché utilizzato in questa maniera il var non serve assolutamente a nulla se non ad acuire le polemiche perché il calcio di rigore che spettava alla juventus per l'atterramento di chiesa seppur involontario ma per danno procurato è che è un qualcosa che è inconcepibile in era var che questo non non venga rivisto e quindi sanzionato come doveva essere con il calcio di rigore però non deve essere un alibi seppure è l'ennesimo seppure è uno dei tanti episodi che quest'anno hanno danneggiato pesantemente la juventus ma ripeto anche se quel calcio di rigore avrebbe potuto cambiare le storie di una partita quello che resta negli occhi di chi ha osservato la juventus quest'oggi è una juventus che non ha veramente un'idea una juventus che non ha fame una juventus che cammina per il campo che non ha né testa né gambe e questo è quello che fa più male perché c'è una champions da conquistare un posto champions da conquistare per la prossima stagione lasciando stare qualsiasi discorso tipo di scudetto e qui non si tratta di fino alla fine di crederci o non crederci bisogna essere realisti questa juventus deve guardarsi le spalle e deve farlo in fretta poi ci sono delle riflessioni che vanno fatte e devono essere fatte in fretta con una società forte a protezione di andrea pirlo che ha tutte le colpe di queste situazioni delle quali lui è il comandante e che evidentemente non riesce a far sterzare ma ci deve essere una quadra una società che si raduna attorno al natore che fa squadra e che fa gruppo perché qui evidentemente c'è qualcosa che non va ed è fondamentale farlo in fretta perché siamo alla 28esima giornata se non sbaglio e il posto champions ancora non è affatto garantito e uscire dalla champions sarebbe una catastrofe uscire dalla prossima champions cioè alla qualificazione della prossima champions sarebbe una catastrofe ragazzi io mi aspetto già i vostri improperi qui sotto nei commenti contro pirlo contro i giocatori capisco e sono assolutamente d'accordo nelle critiche perché oggi la prestazione dell'eventus non può che essere criticabilissima è assolutamente inconcepibile affrontare una prestazione in questa maniera per una squadra che ripeto per detta di pirlo doveva vincere le tute per mettere pressione all'inter detto questo mi raccomando come sempre iscrivetevi al mio canale youtube tenete attiva la campanella delle notifiche mettete like al video e comunque sempre educazione e rispetto forza juve ci sentiamo a un prossimo tre gran minuti e rimanete sintonizzati anche per le prossime grammi interviste iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao